Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi andiamo a vedere due cose molto interessanti Molto molto interessanti, una vi piace particolarmente L'altra potrebbe essere un boom incredibile effettivamente Qualora arrivasse, qualora creassero questa cosa Potrebbe essere un boom impressionante secondo me Ma andiamo per gradi Prima di iniziare, come sempre ragazzi, vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di sempre aggiornati E ricordo che l'iscrizione ci ha aiutato tantissimo E io vi ringrazio Detto ciò, partiamo Questo qui è una cosa che vorrei anche da noi Tralasciando il fatto che è Rush Duel Perché uno Structure Deck eroe È da un po' che non lo vediamo Sì, ultimamente c'ho la fissa degli Structure Deck, scusate Però è da un po' che non lo vediamo Da Hero Strike, sostanzialmente, se evitiamo i deck leggendari Che, ti devo dire, uno Structure Deck eroe sarebbe veramente importante Perché comunque è un mazzo che anche nel meta riesce a fare qualcosina Qualcosina di molto interessante, qualche top alta l'ha raggiunta Comunque non è un mazzo dispendioso Però avere uno Structure Deck del genere Che va a incorporare tutti gli eroi Vi devo dire, può essere un qualcosa di veramente molto buono Soprattutto poi perché ci saranno delle carte nuove Quindi incorporate insieme a quelle vecchie Può essere un qualcosa di assurdo Scatolina molto figa Con l'uomo alato, molto molto figa Devo ammettere che questo Rush Duel c'ha nello stile Così come fu per il Drago Finale Forse lo uso qui anche su Fantasia Lo troviamo perché quello del Drago Bianco c'è Sempre Rush Duel Questo ovviamente è stato appena annunciato Può essere che lo mandano a mettere Vediamo, insomma, le carte come sono fatte Rush mi piace un sacco Allora, Rush mi piace un sacco Anche se io inizialmente ero molto titubante Sul layout della carta Tralasciando l'artwork Forse perché sono abituato a quelle normali Inizialmente l'avevo un po' Non ho detto Non è che mi piaccia tantissimo questo layout Però è un layout che va proprio a elogiare l'artwork E danno spazio soprattutto al disegno Perché poi ci sono le full art addirittura Quindi è interessante È una cosa molto figa Chi è Yugi o normale non credo si possa permettere Anche se potrebbe essere bello vedere una full art di Yugi Soprattutto sulle rarità Quelle... sulle rarità Insomma Vuoi vedere una secret full art È molto molto bella Voglio dire Però, insomma Anche il rifacimento delle artwork Alcune sono molto molto belle Alcune sono inguardabili Altre invece sono molto fighe Questo è Flame Wingman normale E vediamo questo che è un Burst Wingman Sostanzialmente Diciamo che riprende molto Però vediamo Intanto le ali di fuoco sono fantastiche Vediamo allora com'è composto da Emen e Burstina Drix Va bene Va bene Perché cambiare Perché cambiare Insomma Gli hanno soltanto invertito le parti Sostanzialmente Allora Deve essere evocato tramite fusione Mandare la prima carta del deck al cimitero Come costo Scegliamo un mostro curiero scoperto Sul terreno Guadagna 1000 Fino alla fine del turno dell'avversario Poi possiamo scegliere una carta Maggio trappola sul terreno dell'avversario La spacchi Va Molto molto carino Molto carino Soprattutto il Rush 2 Comunque un effetto che Può starci Soprattutto il boost di attacco E lo spaccare Maggio trappola Cioè Ci stanno molto come Come soluzione Poi vediamo Neos Sembrano Tutti meno 2D Effettivamente Come Sparkman Ah Sparkman A Sparkman gli hanno dato veramente Degna Degna cosa Perché Già l'arte normale Per me è bella Sparkman è uno dei miei preferiti Non lo so Troppo un figlio Mi piace un botto Giustizia Gli hanno fatto giustizia Gli hanno reso giustizia Molto bello Clayman Non è Clayman Non mi è mai piaciuto Però ok Borsinatrix Borsinatrix Tanta roba Ed Avion Ero elementale Anche Avion Molto bellino Quello classico Insomma Molto interessante Bubbleman Bubbleman Grande Bubbleman Bubbleman è un po' come Tifone Nega Nel senso Quando lo giocavano Pescavano 2 Invece no Non è Propriamente così Però Vabbè Qui Può essere interessante Ma in realtà L'effetto Non ti aiuterebbe neanche Perché Rush Alla fine Peschi Fino A 2 R5 E poi lo Skyscraper Grattacielo Che ha un effetto Diverso Mentre questa carta Scoperta La zona terreno Avion Bustina Bustina di Xclayman Sparkman Bubbleman Neos E mostri Livello 5 Livello 8 Fusioni Sul terreno Del giocatore di turno Guarda Nenno Mille di attacco Non è come Non è esattamente come Quello normale Gli hanno cambiato il testo Ok Vabbè Queste Mi sa Sono Svormen Sono carte Un po' più Da Rush Che magari Non conosciamo Uh Belle Belle Bellissima No vabbè Questa è bellissima Questa è bellissima Veramente Vedete Con il fatto Che hanno Le full art Sono fantastiche Sono veramente Fatte bene Mi piacciono un botto Ci sono altre Sì Neos Non mi piace Spark Vabbè Queste sono un po' Rarizzate E va bene Il grattacielo Insomma Comunque Tanta roba Molto figa Anche se Si arriva qui E non capiamo Un cavolo Della lingua No Però già averle In collezione Secondo me Sono tanta roba Infatti penso Che qualcosa Di Rush 2 Dovrei prendermi Perché Insomma No Qualora Arrivasse questo qui Ed è fattibile Prenderlo Qui lo dico E qui lo prometto Veramente Lo prendo E ci facciamo L'unboxing Perché Mi sta piacendo Un botto Mi sta piacendo Un botto Veramente Veramente Tanto Quindi Questo Appena è Lo prendiamo E poi Andiamo a parlare Di una cosa Molto importante L'anime L'anime Perché hanno fatto Un sondaggio Per vedere Un po' Di cose Sostanzialmente Qui Sono state Le domande Sostanzialmente Ma più delle domande Voglio parlare Del contenuto Perché 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 Questo tipo Di anime Sostanzialmente Secondo me Perché Va a Riagganciarsi Alle Chronicle Quelle che Avevamo Visto Quelli Quei mini Trailer Tra virgolette Che avevamo Visto E Può essere Una soluzione Importante Perché Tu vai Ad Allacciare La storia Nel mondo Degli spiriti Sostanzialmente Nel mondo Dei duel Monsters Tra virgolette Con la lore Tutta quanta Molto Molto Figa E tramite Quello Che secondo me Anche più Figo Tramite Quello Magari Fai venire Vole Di prendere Le carte Perché Dalla storia La lore È importante Per dirvi Io non sono Molto Informato Sulla lore Di yugi Perché è un po' Più difficile Per me Ritrovare Notizie Però per dire Su magic C'è una lore Enorme È facile Reperire Delle cose E magari Tramite la lore Che è figa Ti vai a vedere Le carte E pensi Oh mio dio Questo è La stessa cosa Può essere I yugi Quindi sfruttare L'anime Dei mostri Tralasciando I duelli E in questo modo Attirare appunto Sui deck Sulle carte Secondo me Potrebbe essere Un'idea Veramente Più azzeccata Soprattutto adesso Che non ti puoi permettere Di fare un anime Sul gioco Perché a quanto pare È impossibile Secondo me È fattibile Farlo Però Magari Devono trovare La quota giusta E può essere Più complicato Di fare una lore Anime Su un determinato Archetipo Quindi vai a fare Quella lì E da quella Storia Da quell'anime Poi ti vai a prendere Le carte Magari ci puoi fare Anche determinati Deck Nuovi Perché parti Dalla storia Poi ci fai I deck Giustamente Come è un po' giusto Che sia Quindi può essere Veramente molto Molto interessante Potrebbe essere L'indizio Per farlo effettivamente Questo anime nuovo Al momento Raccolgono informazioni Fanno Sondaggi E tutto quanto Vedremo Se si può fare Il potenziale c'è Però il potenziale L'abbiamo visto Con Pochi Pochi minuti Un conto Pochi minuti Un conto E farci proprio Una serie Ma che che siano Anche otto episodi Sostanzialmente Perché ormai Va così Ormai va così Cioè Non È difficile Molto difficile Magari fare Gli anime Con un tempo Diciamo Potrebbe essere Una roba più La one punch Di episodi Insomma Proprio Ristretti Però Insomma Potrebbe essere Veramente figa Soprattutto con Albaz No Perché Albaz L'abbiamo visto La sua lore È stata Abbastanza Interessante Pure con i despia Che poi si rivelano Cattivi Tutto quanto È interessante Ma anche Per riproporre Nuove Vecchie carte No Magari Fai la Lord Adess E Da Adess Quella Dall'anime Magari Di Adess Che non c'entra niente Perché adesso Stanno offrendo il sondaggio Con quelli che hanno Rivelato Nei trailer Però che ne so Ripende di quello Poi ci fa l'archetipo Del signore Degli abissi No Che c'è stata La grande faeta Quindi Può essere Una roba Abbastanza Interessante Secondo me Può essere L'inizio Di un qualcosa Di Abbastanza Buono Se qualora Venisse fatto Comunque Speriamo Speriamo Detto questo Ragazzi Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto A tutti Speriamo Speriamo Speriamo